Buonasera a Duc e bentornati a Cianton Ladin. Al 12 de ottobre le mancia Mario Ferruccio Belli, storico, giornalista e scrittor, nel suo San Vido 92 anni fa. Voleva ricordare il tutto per il suo lavoro di ricerca e divulgazione della storia del ciodore di Ampezzo, e pareva tenuto vivere il linguaggio di Ladin con la trasmissione del Televolume Nuoes Ladines. Ferruccio Panetto era un grande valente per San Vido di Cador e per tutta la Val della Goite. Era una sua sede, una famiglia numerosa, era di otto freddiei, tutte quante che diventavano persone politiche. Ferruccio era veramente valente per noi, perché era proprio la passione dei nostri villai, per la nostra storia. Le due, a sopra gli archivi, a tirare fuori tutte le carte della OTA, a parlare con chi vece, chi che contava qual era la storia. Secondo me la roba più importante che l'ha fatto è che la debete su un libro, il diario del maestro Matteo Voluto, che l'ha scritto l'invasione di San Vido durante la ritirata del Caporetto. E là l'ha fatto un quadro, questo maestro, di ci che l'era la vita sui nostri paesi, che l'era veramente triste perché tutti gli uomini erano in guerra e l'era stai solo le femmine che riede e anche qualche vecchio. Ferruccio, dopo la betusora, questo racconto che l'ha fatto il maestro, con tutte le so considerazioni, di chi che l'era stavente e che l'era stava, no? E io, quando ho fatto questa roba qui, ho capito tante cose anche della mia famiglia, no? C'è quello che l'era il nonno, quello che l'era il moro peruto, c'è quello che l'ha fatto, la realtà di tutti i tempi. Ferruccio veramente l'està a un coltore. E quello che mi è piaciuto tanto, nonostante che l'hai 70 anni, è che voleva continuare a scrivere per San Vido. E lei mi ha detto qualche mese fa e lei mi ha detto guarda che voglio scrivere un altro libro su San Vido, no? L'hai scritto il libro sulla scuola, l'hai scritto il libro per San Vido, no? L'hai scritto il libro per tutto. Questo è un altro libro per San Vido, perché che mi sono in corto che mangiava qualcosa da mettere su. E lei mi ha domandato di scrivere anche la presentazione. E io, e qualcuno che tiene suezione a scrivere questa roba, perché non è proprio facile mettersi al padre di questo gran maestro. Però l'ha scritta, e io spero che la viene pubblicata. Ma contà anche che lei era giornalista con il Corriere della Sera, insomma, con tutta la stampa addirittura nazionale. E quindi che lei ha conosciuto tantavente che ero a Cortina per un villeggiatura, ma che è solo al dutto anche qui letterate che scriveva tanta roba dopo la guerra e anche così, insomma. A Palazzo Piloni l'è stato presentato il progetto Filo Ladin, finanziato con i fondi della legge 482 del 99 sulle minoranze linguistiche, con l'idea dell'Imbastino Archivio Digital che contasse la cultura ladina in delle desferente parlate della partauta della provincia di Bellum. A questo progetto l'ha tutta parte tanti dei musei e unioni ladine a uno al Museo Digital Dolomit. Un filo di parole che lega Gordin sull'Dancia, Dore e Comelgo. Ai 18 ottobre l'è stato presentato in via ufficiale al progetto Filo Ladin, finanziato dalla provincia di Bellum con i fondi della legge 482 del 99, col fin da valore all'ingazzo Ladin, non domani in tal discorso ma anche in tal scritto, per poter mettere in pena l'Archivio Digital che potesse essere durata da studiosi e passioni, ma solo per portare in avanti progetti sui ladini in delle scuole della partauta della provincia. Al progetto ha tutta parte tre delle istituzioni tra musei e unione ladine che ha laureato una per cinque mesi dai dai componenti del Museo Dolomit, un museo tutto digitale nascuto nel 2016 che vuole far conoscere la vita dolomitica. In tei anni la laurea ha una quattro istituzioni, e in tal mezza tanti della ori la davertano luog digital dall'ignom officina di storie, dove che sepolciata informazioni partagliane inglese e todesche sul vive in delle Dolomiti a 360 gradi, dalla natura alla geologia, dal sport alla moda delle fasule ciese, fino alla vita delle femmine in tei secoli. Anche il progetto Filò Ladin è stato fatto a questa moda, con una sezione dedicata a dove che la parlata Ladina la ven valorizzata da 70 parole, cercate fuori dalle istituzioni che io partecipò, che le contano delle tradizioni, delle cugine, dei luoghi, del tempo e dei lavori che praticati sono al tutto da noi accanto, e che le ven presentate con audio, retrace, video e qualche scritto sia per l'italiano che per Ladin. Parole che metta una, come che anche una volta si fai a Filò, dunque se si racconta, ti torna l'arino in testa tua. Proprio da qua è stato fatto fuori il nome di questo progetto. Duce chi ha partecipato è stato contento di quello che le veniva fuori, e poi è stato un'altra dentro piena di passione per il luogo andando e che la vivere, e con la voglia di contare gli altri, sia anche che il lavoro è stato fatto tutto da Indalons, con la sentenza dei digitali. Dopodiché questo, il pregio di questo progetto è che il depo di essere stato facile, depoderando che mai, e deve essere un buon basamento per far conoscere il Ladin come che il vende scorreste in delle desferente parlate della provincia di Belum. Ma un progetto che può anche s'eslargiare in quel tempo, magari proprio con il lavoro dei maestri e tutti da scuola. Il Museo Albino Luciani del Canal è una istituzione incentrata sulla vita del Papa Giovanni Paolo I, ma che la laurea anche per dar valore alla storia e alle tradizioni della Val del Biois. Il direttore Loris Serafini ne conta della ricerca fatta sui preve, che gli ha prestato il suo servizio in testi luog, che la porta alla pubblicazione del Liber. Il metto a dire del Museo Albino Luciani, sono con il direttore Loris Serafini perché ha scritto un bel libro sui sacerdoti della Val del Biois. A te la parola Loris. Da trenta anni, don Monsignor Ausilio Darif, che era nassù in Canal a Feder, si ricorda che da boccia l'aveva descuruta con il mansionario di Caviola e aveva domandato quanti che erano stati preve nella Val del Biois. Questo don Giovanni De Mio, il mansionario, aveva risponduto che non si sapeva niente di preciso. più in avanti, è diventato archivista della Curia e si cominciò ad incercare, più che non incercare, più che non veniva libero. L'ho fatta insieme con Monsignor Giuseppe Andric, che adesso è vescovo emerito di Bellum, e l'ho venuta liberata per la prima messa di Don Bruno Sopelsa che aveva in 94 anni, ancora ormai trenta anni fa. Per ricordare i vinti anni della sua ordinazione a vesco, hai pensato di fare una riedizione di questo libro con dei dati in off, dove mi ha dato anche a Claudio Scardanzan, che ha fatto una bella ricerca sui dati di tutta la Val del Biois. L'elenco di tutti i previ è qui, e poi l'elenco di chi invece ha prestato servizio nella PF del canale, le fotografie anche delle caloneghe, di tutte le caloneghe di questi mansionari, perché ogni paese piccolo aveva il suo previ. Le moneghe le è difficile documentare, perché le sparì tante volte dalla situazione. I previ venivano sempre ricordati i registri, e non era anche un obbligo, perché aveva anche i registri di nascita come si aveva sviluppato la questione. Invece per la moneghe non era nessun tipo di obbligo, e il preve non scriveva mai sul lato di Battedo che l'era tutta fa la moneghe. Quindi delle ultime si sa, del Novecento si sa, dell'Ottocento Anca, disonda la metà, e Pindrio Nia, ma gli è state tante. Nel 1925 il Piovande Canal, Don Filippo Carli, scriveva alle madri generali domandando tra i moneghe per l'asilo parrocchiale. Lei diceva, noi ho nel diritto più di tutti di avere al manco tra i moneghe, perché ne ho tante delle vive native della nostra parrocchia. Pindrio che si va più difficile, anche quei previ, dal 60 o 60 o 60, o di chi si è polli, chi che l'era, dal 50 o no, quindi ne ho tanti di Pindrio che l'ha scritto qua. Comunque gli è 134 dei nostri, e Pindrio 300 che ha fatto servizio qua. Siamo nella Casa delle Regole del Canal, che fa parte del Museo Albino Luciani. Claudia Tancon, che è un'impiegata di questa bellissima realtà, ne conta le iniziative che le è state mettute via attivamente. La Casa delle Regole è una casa storica del 1640, che si trova nel Corde Canal. Fa parte dei siti della Comuseo Val del Biois, che è un'istituzione nasciuda nel 2021, e promossa dalla Fondazione Papa Luciani Ollus. Collaborò con l'Unione Ladina Val Biois per la promozione della cultura, della lingua e delle pubblicazioni. Recentemente, Avon collaborà con l'amministrazione provinciale del Bellun, e anche le altre Unioni Ladine e gli altri sportelli della Gordino e dell'Alto Bellunese, per la realizzazione di un progetto che si chiama Filo Ladin, che comprende proprio la valorizzazione delle parole chiave, dei nostri dialetti e della nostra lingua ladina, in base alla legge 482 del 99. Grazie per essere stai con noi autere, vi spettò un mercolio che vengo a altre nuove. Sani e buona continuazione. Sani e buona continuazione.